Quanti soldi servono per investire? Quando sei un principiante questa è la peggiore domanda che tu ti possa porre, però ne sembrate ossessionati, quindi oggi vi darò la mia risposta. Ma prima voglio dirvi quali sono le giuste domande da porsi quando si vuole diventare un investitore. La prima domanda da porsi è cosa fanno i migliori investitori del mondo, come operano, come sono diventati così ricchi? E la seconda domanda è come faccio ad imparare? E ora la domanda più importante di tutte, sei pronto? Ok, eccola, ho messo mi piace al video di Gus? La risposta deve essere un sì categorico. Benvenuti su Investire con Gus. Con le prime due domande vi ho appena risparmiato tra i 3 e i 5 anni di perdita di tempo a cercare di capire come fare soldi sui mercati. Rispondete a quelle e siete a posto. Si trova tutto su internet, tranquilli. Ma ora risponderò alla domanda principale di questo video. Quanti soldi servono per investire? Prima di rispondere però voglio spiegarvi il perché della mia risposta. Prima si inizia ad investire, meglio è. Però non c'è cosa più sbagliata che iniziare ad investire senza averla ben che minima idea di quello che si fa. Perciò prima dovete studiare. Iniziate leggendo questo libro di Jack Bogle. Grazie a questo vi farete un'idea di come funzionano i mercati e capirete che probabilmente finché studierete e imparerete ad analizzare singole azioni, la cosa migliore da fare è creare un pack su ETF. Un pack è un piano d'accumulo del capitale, è una strategia di investimento con la quale si stabilisce una cifra fissa da investire ogni tot tempo. Nel caso in cui non abbiate ancora letto questo libro e vogliate acquistarlo, vi metto il link affiliato in descrizione. E acquistatelo dalle A, così mi supporterete un pochino. E nel frattempo studiate a più non posso e quando sarete pronti, quando avrete imparato ad analizzare un business e a valutare un'azione, potrete iniziare ad investire in singole azioni. Prima si inizia, meglio è. Iniziare subito e con pochi soldi è fantastico, perché mai che vada perderete 100, 200, 300 euro. Somma è decisamente ininfluenti nella vita di una persona, però imparerete delle lezioni di immenso valore, che vi saranno utili in tutta la vostra vita di investitori. Sui libri e su YouTube si possono imparare tantissime cose sugli investimenti, però c'è una cosa che nessuno ti può vendere, che nessuno ti può insegnare, e quella è l'esperienza, quella si ottene soltanto con il tempo, facendo errori, provando e sbagliando. Perciò non perdere tempo, datti di affare e inizi ad investire. Di cosa hai paura? Di perdere 1000 o 2000 euro? Spendi ben più soldi per fare festa con i tuoi amici e per comprare cose di cui non hai bisogno per impressionare persone che non ti piacciono. Questa è una citazione, se sai che ho citato scrivilo nei commenti e ti metterò un cuoricino. Investendo piccole cifre avrai la possibilità di fare errori, di imparare da essi e di sviluppare una mentalità da investitore. Ecco, questa è una cosa veramente fondamentale. Se vuoi diventare un buon investitore devi imparare a gestire le tue emozioni, devi imparare a pensare in maniera razionale e sempre, in qualsiasi situazione. All'apparenza sembra tutto facile. Trovo un'azione sottovalutata, ci investo e in un anno mi fa più 100%. Beh, non è proprio così. Può essere che comprare delle azioni e queste inizieranno a crollare. Magari non hai neanche sbagliato la tua analisi, è semplicemente la foglia del mercato. Farà crollare le tue azioni del 50%, magari del 60%. E tu cosa farai? Sarai in grado di restare razionale, di fare una scelta giusta e sensata? E fidati, succede spesso. Sarai in grado di sopportare un meno 50%, un meno 60%? Se la risposta è no, probabilmente ti conviene lasciar perdere le singole azioni e ti conviene investire in ETF, magari creare un all-weather portfolio che ha una volatilità molto più bassa rispetto all'azionario. Ma allora, quanti soldi servono per investire? Bastano 100€. Il mio consiglio è quello che ti ho dato durante tutto il video. Investi il prima possibile. Il fatto di mettere i soldi sul piatto ti spingerà ad impegnarti di più, a studiare di più, a stare più attento. Ti stimolerà a diventare un investitore migliore molto più velocemente. Adesso voglio darti qualche consiglio per imparare ad investire. In questo mondo super connesso non ci sono più segreti. E si ha accesso a qualsiasi informazione gratuitamente. Perciò la prima cosa che devi fare è vai su YouTube. Guardati tanti video su YouTube. Preferibilmente non di italiani, perché i contenuti dei canali YouTube italiani, per la maggior parte almeno, sono abbastanza indietro, abbastanza inferiori rispetto ai contenuti degli americani. Perciò la prima cosa che devi fare in realtà è imparare l'inglese. L'inglese è assolutamente fondamentale. Ve l'ho detto già diverse volte, però ne avete bisogno. Anche quando vorrete analizzare delle singole azioni, dovrete saper parlare l'inglese. Se no, non capirete niente. Non sarete in grado di analizzare un'azienda in una maniera completa. Se sei l'inglese, guarda questo video, in cui ti ho parlato dei migliori YouTubers che parlano di finanza. E vai a seguire i loro video, iscriviti ai loro canali e guarda i contenuti che pubblicano. Imparerai veramente moltissimo, te lo assicuro. E ovviamente devi studiare anche i buoni vecchi libri. Questi sono assolutamente fondamentali. Però non devi leggere quelli scritti dai professoroni. Devi leggere quelli scritti dagli investitori, dai veri investitori, dalle persone che si sono arricchite investendo sui mercati. Questi ti daranno veramente delle buoni basi per diventare un ottimo investitore. E poi l'esperienza a fare il resto. E visto che spessissimo mi chiedete quali libri leggere per imparare ad investire, me ne consiglio alcuni. Inizio con uno che ho letto di recente ed è molto semplice. Si può mettere in pratica veramente subito. Non servono particolari conoscenze per capirlo, perché non ci sono molti tecnicismi. Sono tutti concetti molto semplici e facilmente applicabili. Questo si chiama One Hundred Beggers, di Christopher Mayer. One Hundred Beggers, significazioni che centuplicano il loro valore. E in questo libro l'autore spiega quali sono le caratteristiche di queste azioni, delle azioni che hanno centuplicato il loro valore. Questo ve lo consiglio assolutamente se volete imparare ad analizzare un'azione growth, un'azione ad alta crescita. Potrà esservi molto utile per magari scovare la prossima Apple, la prossima Amazon, la prossima Tesla. Davvero molto bello, libro semplice ma utilissimo. Il libro numero due vi insegnerà invece a trovare azioni value, con le stesse tecniche e strategie che utilizza Warren Buffett, dell'investitore intelligente di Benjamin Graham, un grande classico degli investimenti. Questo è molto più tecnico, però ve lo consiglio. Dovete capire come trovare azioni value e dovete capire i concetti che spiega Benjamin Graham in questo libro. Vi saranno fondamentali in tutta la vostra vita di investitori, ve lo assicuro. E infine, se non vi interessa imparare ad analizzare singole azioni, vi consiglio questo libro, investire con gli ETF e gli ETC, costruire un portafoglio profittevole e a rischio contenuto. Non tutti hanno voglia di cercare singole azioni e battere il mercato. Qualcuno vuole semplicemente investire e starsene tranquillo, senza dover fare grandi cose. Questo è il libro perfetto per quelle persone. Ovviamente vi metto tutti i link affiliati in descrizione se volete acquistare questi libri. Per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un mi piace, iscriviti al canale e condividi il video con tutte le persone che conosci. Ciao e buoni investimenti!